la super pattuglia ciao Matt! ciao Frank! come state ragazzi? ehm... Frank? Matt? avete visto quei muri? mi chiedo chi abbia fatto quegli scarabocchi hai ragione Matt questo non è accettabile dobbiamo catturare il colpevole Matt! Frank! avete notato? su quella parete ce ne sono altri hai ragione Frank questi graffiti sono molto simili a quelli che abbiamo visto prima venite andiamo a coglierli in flagrante nessuno in questa strada vediamo la prossima guardate lì ragazzi credo che abbiamo trovato quello che stavamo cercando ruota in alto sei in arresto per ehm... siamo spiacenti Gary pensavamo che fossi il responsabile dei graffiti sui muri ok troviamo il vero colpevole ora qui niente di sospetto niente nemmeno qui ciao Lucy! sì lo sappiamo abbiamo visto anche noi quei graffiti sui muri stiamo cercando di catturare il colpevole sii prudente ciao ehi guarda che cosa sta facendo qui Billy il bulldozer credo che abbiamo trovato il nostro colpevole ferma quello che stai facendo Billy sappiamo che sei tu quello che imbratta le mura della città ehm... siamo spiacenti Billy penso che abbiamo fatto un errore tu sei occupato a fare un lavoro qui per favore scusaci Billy ora ce ne andiamo a cercare il vero colpevole ciao è stato un errore grossolano dobbiamo stare più attenti la prossima volta avete ragione Matt e Frank non possiamo andare in giro ad incolpare degli innocenti questo è ingiusto so che è presto per dirlo ma il fatto che Tyler sia vicino a una stazione mezzo scarabocchiata sembra molto sospetto allora che ne pensate ragazzi dovremmo prenderlo? alto là! ruota in alto Tyler! sappiamo che sei il responsabile di questi graffiti e questa ne è la prova ce l'abbiamo! accidenti Tyler sta fuggendo prendilo Matt più veloce più veloce Matt lo so Matt Tyler è molto veloce va bene chiamiamo Hector l'elicottero ciao Hector abbiamo bisogno del tuo aiuto per catturare Tyler vieni ti prego insieme ecco Tyler è molto veloce accelera Hector aiete ancora dai Hector più veloce non lasciarlo scappare continua Hector prendilo fantastico Hector ottimo lavoro grazie Hector non sarebbe stato possibile catturare Tyler senza il tuo aiuto a presto è tempo di riparare il danno Tyler così ci penserai due volte prima di rifarlo bel lavoro Matt bel lavoro Frank ci vediamo ciao la super pattuglia ciao billy come stai ti sei perso billy resta qui non ti preoccupare vado a chiamare qualcuno per aiutarti Matt hey Matt billy il trattore si è perso dobbiamo trovarlo penso che abbiamo bisogno di aiuto Matt chiamiamo Frank il camion dei pompieri per aiutarci hey Frank vorresti darci una mano a ritrovare billy si è perso da dove si comincia hai ragione Matt billy è andato a trovare amber l'ambulanza questa mattina parliamo con lei ciao amber sappiamo che hai visto billy questa mattina sai dove si trova è andato alla fattoria grazie amber andiamo la allora matt frank guardate c'è bene il trattore ehi ben sai dove si trova billy nel bosco dici ok andiamoci ragazzi bec cerchiamo di non perderci anche noi billy dove sei? sarebbe bello se riuscissimo a vedere dall'alto! che succede ragazzi? wow una videocamera ottima idea vediamo se riusciamo ad individuare billy ora oh eccolo è billy laggiù sulla strada billy sei al sicuro ora? matt e frank sono qui congratulazioni amici miei avete salvato billy ora potete andare tutti a casa arrivederci alla prossima volta e grazie ancora la super pattuglia ciao ben dove stai andando di bello? ben attenzione oh no ben stai bene? resta qui chiamerò la pattuglia della polizia ecco matt chiamiamolo matt matt aspetta ben ha bisogno del tuo aiuto è bloccato sul ponte ok ok ragazzi nellaifikazione Matt, cosa stai facendo? Il ponte si trova sulla destra! Ah, stai chiedendo rinforzi a Frank il camion dei pompieri! Ottima idea! Ben, non hai più di che preoccuparti! Matt e Frank ti toglieranno da questa buca! In un attimo! Oh no! Sembra che il passaggio sia bloccato da questi massi! Ah sì, buona idea! Chiamiamo Billy il Bulldozer ad aprirci il passaggio! Billy, Matt e Frank hanno bisogno di te per salvare bene il trattore! Vieni! Ok, Billy! Cerchiamo di ripulire questa strada! Ottimo lavoro, Billy! Molte grazie! Ciao! Ok, amici! Al lavoro adesso! L'intenzione era buona, Matt, ma sembra che Ben sia troppo pesante per te! Cosa stai facendo, Frank? Fai attenzione o colpirai Ben! Oh, grande idea, Frank! Oh, grande idea, Frank! Dai, Matt! Andiamo, Frank! Ci siete quasi! Sì! Ragazzi, complimenti! Ottimo lavoro! La prossima volta, Ben! Fa' attenzione a dove metti le ruote! La super pattuglia! Ehi, c'è Susie! Sembra che si stia divertendo lì, nella strada del bosco! Oh, no! Il vento ha buttato giù un albero! Susie, sei ferita? Quell'albero ti è crollato addosso! Dobbiamo portarti in ospedale e issare via questo tronco da te! Chiamiamola super pattuglia! Ehi, Frank! Perdi qui! Susie è nei guai seri! Ha bisogno del vostro aiuto! Matt, puoi andare a prendere Amber? Frank, puoi venire con me? Forza, ragazzi! Andiamo! Ehi, Susie! Matt e Frank sono qui per aiutarti! Grazie, Frank! Aspettiamo Amber ora! Non ti preoccupare, Susie! Matt è andato a chiedere a Amber l'ambulanza di venire qui! Eccola! Ciao, Amber! Grazie per l'aiuto! Il semaforo è diventato verde! Puoi entrare, Susie! Ecco fatto! Tieniti bella dritta! Fantastico! Siamo all'ospedale! Povera Susie! La testa deve farti molto male! Ma Amber si prenderà cura di te ora! Penso che per prima cosa dovremo pulire la ferita, vero Amber? Pronta, Susie? Chiudi gli occhi! Va tutto bene, Susie! Amber ha un po' di cotone! Presto sarai tutta bella pulita e asciutta! Oh, ti fa il solletico, Susie! Adesso ti mettiamo un cerotto! Fatto! Tutto sistemato! Ti senti meglio, Susie? Sembra che tu sia pronta per andare, allora! Susie non sembrava felice! Sei d'accordo, Amber? Vuoi vedere Susie sorridere di nuovo? Ok, vediamo cosa possiamo trovare! Deve pur esserci qualcuno a Car City che ci possa aiutare! Ehi, guarda, Amber! È Matt, l'auto della polizia! E ha dei palloncini con sé! Sembra che Matt stia dando i suoi palloncini a Amber! Grazie, Matt! Sono per Susie! Ember, ha un'altra piccola cosa per te, Susie! Non ti preoccupare! Niente acqua da spruzzarti addosso stavolta! Puoi aprire gli occhi ora! È bello vederti sorridere di nuovo, Susie! Bel lavoro, Amber! È ora che Amber ritorni all'ospedale! Ciao, Amber! E grazie!